Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo quarto episodio di Testcraft ragazzi Allora, ho trovato questa zona, adesso prima vado a dormire un secondo, approfitto di questo edificio Allora, saliamo di qua, oddio, questa qua è pericolosissima È pericolosissima, ecco, l'avevo detto Mamma mia Allora, vogliamo andare a dormire un secondo, per favore Ok, dormiamo qua Dormiamo qua Cosa? Rename your back Ah, posso rinominare il mio backpack Interessante la cosa, comunque non si possono piazzare Cavolo, ci deve essere un nucleo, ok, questo qua è il nucleo Se io lo riesco a rompere Ok, posso distruggere tutti i cubi che voglio adesso E posso anche piazzare il mio letto Perfetto, dormiamo E adesso vi spiego perché sono qua Allora ragazzi, e visto che nello scorso episodio non eravamo entrato sulla terra Sono andato poco più avanti Infatti questo qua è ancora un pezzo del vecchio bioma Uh, guardate là, c'è un pegaso volante Infocato Lo vedete? È molto lontano in effetti E... Quello là che cavolo è? No! Quello là è un ogre ragazzi Cavolo, quello là è un ogre Non è per niente una cosa Bella Ok, si è despaunato, molto bene Ciao pecora E mi faresti un favore, già che sei qua Potreste andare sopra quella Pressure plate, grazie No, 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 no Di qua, grazie Ecco, grazie pecora Avete visto queste pressure plate pericolosissime ragazzi Che esplodono e ti danno pure fuoco Comunque adesso che abbiamo distrutto quel nucleo In questa zona possiamo rompere Queste bellissime Barre di ferro E possiamo beneficiare del contenuto delle casse Logicamente bisogna rompere un bel po' di cose Eeeh 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 Queste cose qua sembrano cose fighe Che non so assolutamente usare Però voi Me le saprete sicuramente consigliare ragazzi Eeeh Mi sembrano cose fighe Quindi Avevo un buon presentimento Comunque Eeeh Rompiamo un paio di cose Mmm Perché mi Mi ispirano tutte quante ste cose che trovo ragazzi Ste tre cose qua in particolare mi ispirano Un bel po' Arcan Compass Vediamo un po' Se si può usare No Magari questo si può usare No O magari questo si può usare Vediamo anche questo nel frattempo No Boh Non lo so ragazzi Allora Quindi Facciamo così Prendiamo Tutta la colonna Praticamente Si E vado A far vedere che cosa ho fatto off camera Appunto Ho trovato questa zona Ho piazzato un paio di ceste E poi off camera Andrò a prendere la roba che aveva lasciato il villaggio Ed oggi cominciamo la costruzione della nostra casupola Che adesso vi spiegherò come fare Allora ragazzi Devo Prima di costruire la casa Disattivare Gli ogre Come si fa Inventiamo Non ce l'ho un secondo Allora vediamo un attimino qua Vediamo un po' Back Water mode Creature More creature Ok Cerchiamo Bear Come si chiama quello là? Ogre se non sbaglio Ogre Non lo trovo Vediamo un po' Twilight forest Non c'è neanche qua Creature Non c'è neanche qua Questo non c'è Metor Questo non c'è Cos'è? Aspettate Back Non ci sono gli ogre Tecnicamente Ok Dobbiamo trovarlo Quello affare Quando lo troveremo E questo cos'è? Frequency Ah ok ragazzi E possono accadere meteoriti Da quello che ho capito Boh Non ho capito niente Diciamo così Facciamo prima Ok Back to game Allora ragazzi Finiamo di Abbattere tutta sta roba Non sono riuscito A disattivare L'ogre Ma ci riproverò Allora Direi che questo edificio Potrebbe diventare La nostra dimora Per qualche giorno Ma si Però pecora Te hai già rotto Mi spiace Ok 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 Vediamo di rompere Tutto Ok Tutte staranetele Noiosissime Ok Che versi fate Là fuori Allora ragazzi Eh Ho una mini idea Della Per farla a casa Diciamo Però diciamo Che sarà Quasi Completamente Random Ok E Nel frattempo Devo anche pensare Quale materiale può E quale materiale non può Distruggire l'ogre Perché l'ogre Per venirmi a spaccare la testa Distruggerebbe Qualsiasi cosa Quindi cosa faremo Noi ragazzi Adesso prendiamo Un bell'arco Lo incantiamo E facciamo Capire Chi comanda Tutti questi tizi Allora Aspettate Vediamo Poi in queste costruzioni Se non sbaglio Ci potrebbero essere Anche delle casse nascoste Penso che Sbaglierò Sicuramente Ma Speriamo che ci siano Delle casse nascoste Da qualche parte Ok Scendiamo Magari Ma non le troveremo Il letto Lo lascerei anche là Ma si E direi 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 Che Cominciamo Ad abbattere Un paio di cosette Uh qua c'è già un lupo Lupo Te ti spawni Molto frequentemente Questa cosa Mi fa molto piacere Qua c'è un albero Della towncraft Ce ne sono due No c'è uno solo Scusate Lo abbatto E con tutti questi moscerini Che girano A rompere le scatole E appunto In questa zona Vorrei costruire Diciamo un po' Sul lago E un po' Ehm Così Fa tante stradine Vediamo un attimino Cosa riusciamo a fare Adesso eh Allora Buttiamo giù Questa roba qua Veloce Dai dai Che lento Che è lentissimo Buttare giù Quest'albero Ragazzi Ok però Guardate che risultato Dopo Mamma mia Ok Lumaca Ci sono Le two slime Che logicamente Non mi droppi Ehm Questi fiori Lascierei anche qua Ok Vediamo Sì Qua Quelli che sentite Sono le Libellule Allora Vediamo Questo è Indicativamente Il centro Del lago Giusto? Sì Questo è Indicativamente Il centro Del lago Sento anche Degli zombie Probabilmente Ci sarà qualche caverna Qua sotto Direi che Noi facciamo La casa In mezzo Nella montagna Ok Sento degli zombie Sono un po' curioso Devi fare un salto qua Ciao lumaca Non ti ho Che rientri nel guscio Ok qua abbiamo già Dei materiali Ciao lupo Vediamo un po' Ebbiamo delle torce Giustamente no Però sono curioso Oddio C'è Uno di quei tizi Un po' Rompi Aspettate ragazzi Così non vedete niente Andiamo a fare Delle torce Torce torciose Guardate qua però Abbiamo pure finito il piccone Vi è di fare qualche Piccola zona di Smistamento Diciamo Allora Cominciamo Guardate qua quanta roba Che ho già Molto molto bene Allora Piazziamo Queste due casse Le piazziamo qua in cima Non so ancora per cosa Le userò comunque Però le ho diviso così ragazzi Strumenti vari Incluso quelli Della arsa magica Perché Ci siamo tutti quanti strumenti Che Diciamo Ordino un pochettino Ok Poi abbiamo Degli minerali Qua Qua abbiamo I cose Generali E basta Queste qua sono più o meno Le cose che ho fino adesso Qua posiamo un po' Tutto Ok Madonna Quante versi fate Anche voi siete Muori piccola Eh Bè 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 L'umacone La papera Il coniglio Mamma mia Ancora qualcuno C'è Ok Via la vespa Basta Quanti siete Via 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 La mia popera spada Di scuolo Se ne sta andando Con tutta la fatica Che ho fatto per farla Ragazzi Ok Allora Mettiamo Fornays E Crafting table Ok Guardate che bell'angolino Che mi sono fatto Mi gusta Allora Fornays Ci mettiamo Del carissimo carbone Che non abbiamo Giustamente Giustamente Abbiamo del carbone Quindi noi cosa facciamo Prendiamo sto ferro Prendiamo Questi stick Prendiamo Non avevo delle torce Ero sicurissimo Di avere delle torce Ragazzi No Non ce li ho Evidentemente Comunque E Facciamo un po' Questo affare qua Clicchiamo O E lo facciamo sparire Ok Poi facciamo Un bel piccone Un bel pickaxe Di Ferro Pickaxe E E E E Qualcosa si fa Questo qua che cosa serve Oddio E' sparito E' comparso Un Puntino luminoso In alto Lo vedete ragazzi In alto In alto Chissà cosa posso fare Però se non sbaglio Questo puntino luminoso Non è uguale a questo Non è che adesso posso usare Scusami Tizio Vieni qua un attimo No Non posso farci niente Boh ragazzi Non lo so Non ne ho la più palida idea Proprio Di come si usa sta mod Lo so Poi me lo direte Nei commenti Lo so già E Allora Qua Potremmo farci una spada Ma non ce la facciamo ancora Direi che abbiamo il piccone E anche se ne abbiamo le torce Possiamo andare Oppure le mosche ci sono Incredibile Via Siete super fastidiosi Veramente Allora Prendiamo un po' di legno Invece lo portiamo tutto Questo legno qua Lo posiamo Anche questo Questo lo posiamo Ok Guardiamo un po' di roba E direi che possiamo andare Ragazzi Finalmente Sono già passati Un bel po' di minuti Ma pazienza Non ci credo ragazzi C'è pure un panda Guardate che figo il panda Il panda è un figo Però lo uccide lo stesso Vieni qua la panda Non mi dai manco la pelle Quale ti ho ucciso fare allora Ok Qua abbiamo un bel minerale Che è il Bitume Bello Bitume Qua abbiamo il carbone Che ci serve appunto Per fare le torce Quindi anche qua Molto bene Molto molto bene Però ste mosche Sono veramente Non fastidiose Di più ragazzi Mamma mia Che Fastidio Ok Vediamo di prendere Un po' di carbone Per farci le torce Ce le abbiamo Ok Dove venire uno stacco Infatti Ok Ancora carbone Che il carbone è utilissimo Ragazzi Non so quante volte Lo ripeterò Però è fighissimo Se abbiamo quel puntino Secondo me abbiamo Qualche potere speciale Con quel puntino in alto Ragazzi Secondo me abbiamo Qualche potere speciale Spero solo che non sparisca Dopo un po' di tempo Spero che rimanga per sempre Però non ho Barre della durata Qua è morto Un topo da solo Ok E direi che voglio andare a dormire Perché si cominciano A spawnare i tizi Qua vero E io i tizi Non li voglio In mezzo alle scatole Ok Facciamo Un po' di luce Giusto qua intorno Ragazzi Per non essere assaltati Dai mob Ok E Quasi quasi Se trovassi un bellogre Farebbe anche piacere Ok Qua illuminiamo E dormiamo Ok Molto bene Direi che anche questa notte Potrebbe passare tranquilla Ok Non ci sono stati problemi Neanche questa notte E direi che Dobbiamo piantare Tra poco Gli albrei Della towncraft Perché Poi vi spiegherò che Con la towncraft Viene introdotta Una specie di Cosa Non ho sbagliato Cassa Che non so bene Come definirla Praticamente Detto Poche parole Ci sono delle forze oscure E delle forze buone Da quello che so E Con L'abusare Delle magie Della towncraft Queste forze oscure Prenderanno sempre più Controllo Su questa zona In cui noi viviamo Per evitare che Ogni secondo Ci siano Tempeste Che distruggono Tutto Dobbiamo Purificare la nostra zona Per purificare la nostra zona Bisogna appunto Guardate qua quanta bella roba Bisogna appunto Piantare questi alberelli Odè Ok Questo affare qua Che cos'è E' il salper Salter Oddio Non so neanche più parlare Qua abbiamo l'ambra Ok Abbiamo preso tutto Andiamo ad andare a vedere Qualche minerale Un po' più Power Scendiamo giù di qua Dai che mi sento Che c'è qualcosa qua Spada la mano Ok Non c'è niente Infatti Mi ho sentito proprio bene Ah no Ah no 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 Eccoli qua Apriamo ancora questo affarino qua Questo cosino Vai via te Brutto corridore Muori Ok Allora 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 Vediamo Piano piano Scendiamo di qua Ci prendiamo Tutta la roba Che ci interessa Ok Molto bene E intanto abbiamo anche il nostro zainetto Possiamo fare così E ci posiamo tutto dentro Ok Ragazzi Guardate che comodità Lo zainetto Ammirate La comodità Dello zainetto Ok E così No perché Ah giusto Ho sposato lo zaino Ok Zainetto Ci posiamo dentro anche tutta sta roba qua E ricominciamo a scavare ragazzi Molto bene Magari velocizzerò questa parte E comunque parlo in ogni caso ragazzi Così rimane la mia simpatica vocina velocizzata E Vediamo un attimino Dove ci porta Questa bella caverna Mamma mia Come scende bene Come scende bene Come finisce bene anche No Non finisce No che non finisce Vediamo un po' Cosa ci Mamma mia Guardate che bella caverna Ragazzi Qua abbiamo dei minerali Un po' pro E sarebbe Cioè non mi farebbe tanto schifo Trovare un bel dungeon ragazzi Mi farebbe abbastanza piacere Speriamo di non trovare qualche mob strano Piuttosto Ok Intanto abbiamo sempre la nostra spada Anche la laggata Abbiamo la spada e la laggata Ok Guardate quanto è bel carbone Lo so devo raccoglierlo tutto ragazzi Perché è importante il carbone Ok Potrei fare delle velocizzazioni A pezzi Cioè Quando raccolgo il carbone Nel tempo sento dei rumori Assurdi Ma va bene Ok Va bene Va bene Così un ragno Ci può ancora stare Vediamo tutto Che bello Prendere tutti i minerali Questo qui cos'è? Non si può prendere? Penso che col piccone di ferro Si possa prendere questo Dai No non si poteva prendere Sono sbagliato C'era qualche piccone speciale allora Che io non ho mai visto evidentemente Ehi ciao ragnetto Vieni Venga su Venga Venga che c'è posto Prego prego Buonasera Come sta? Bene Stava bene Prima di essere colpito Vieni qua Vieni qua Brutto Rompi palle Ok Qua vediamo di scendere Magari Guardate quanta roba ragazzi Cosa ci fai te qua? Topo maledetto Ehi 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 Dove sei? Dove sei? Si ci droppa lo stomaco Il topo Logicamente Stomaco di topo Mamma mia ragazzi Guardate che Ehi Mamma mia Però Anche te Che due scatole Ah non è uno stomaco È un topo morto Che bello Abbiamo un topo morto ragazzi Molto buono Scommetto che si può mangiare Perché noi mangiamo la carne marcia Per noi il topo È buonissimo Ok Ulla Potrebbe essere inutile Non potrebbe essere Anche una cosa molto utile Quei minerale Quindi Direi che lo andiamo a prendere adesso Opa Facendo moltissima Attenzione A eventuali mostri Super fortissimi Ok Chi è? Vai via te Vai via Vai via Vai via Vai via Vai via Vai via Mamma mia Dio Mi scorda pure il telefono Ovviamente Bella diretta Rieccomi ragazzi Scusate l'interruzione Ma logicamente Il telefono squilla Proprio quando registro Allora facciamo un bel Back to game Ho messo la torcia qua in terra E ho però paura che Si siano spawnati Tutti i mob Esistenti In Minecraft No Quindi direi che Per questo episodio È tutto ragazzi Perché abbiamo trovato Veramente di tutto Guardate qua Sti minerali qua assurdi Direi che appunto Per questo episodio è tutto Io come al solito Vi ringrazio Vi invito a continuare A seguire questa serie Che vedo che vi piace Moltissimo E niente Quindi vi do appuntamento Al prossimo video Dove saremo ancora In questa camera Cercheremo di recuperare Un po' di minerali Ne recupero magari anche Ne recupero anche Un po' magari Off camera Ok E nel prossimo episodio Ci vediamo Con tante belle Nuove cose Vediamo un pochettino Qua cosa c'è però Ok Sembra Guardate sto minerale Che strano Ci sono troppe cose Da vedere sto Vediamo un po' Minerale Che si limitizza Molto bene Boh Ragazzi Per questo episodio è tutto Adesso mi fermo Qua in un angolino Aspettate Qua cosa c'è La lava Oddio Che cosa c'è qua Oddio C'è di tutto Aiuto Ok Salgo qua in cima In un posto un po' più riparato Per chiudere l'episodio Ragazzi Perché non posso chiudere l'episodio In un posto Del cavolo come quello Dai finisce sta caverna Ok qua ragazzi Perfetto Per questo episodio è tutto Io come solito vi ringrazio Vi do appuntamento Al prossimo video Ciao ciao Come on Come on Grazie a tutti Grazie a tutti